Buongiorno dal Touch, la rassegna stampa che apriamo con la prima del Roma. Napoli 30 e lode contro il Toro, la trentesima vittoria in stagione, scudetto più vicino. Inter, K.O. Azzurria più 19 sulla Lazio, ora seconda. La cronaca pronto soccorso vigilante morso da una paziente ospedale del mare, ennesimo episodio di violenza. E poi in Mazzarella la sbarra, racket a forcella, sprint dei PM, giudizio immediato per i LAS. Le pagine interne, Putin a Mariupol sfida il mondo, attesa per l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping che si propone come mediatore. Per la prima volta lo Zaro in uno dei territori ucraini, annessi alla Russia, abbiamo armi ipersoniche. Da New York l'allerta per l'arresto di Trump, si temono violenze. Scandalo con l'invito del tycoon a manifestare contro la possibile incarcerazione preoccupa le forze dell'ordine. Coppie gay non possono spacciare bimbi per loro figli. Frase shock di rampelli di Fratelli d'Italia scatena la bufera, ma il governo prepara la stretta sulla maternità surrogata. Tema vigilanza RAI sulla presidenza niente intesa. In Parlamento aperta anche la partita dei vertici dell'Istat. Mancano i numeri. A Piombino nave rigassificatrice. E' tensione porto blindato nella notte per evitare le proteste. Da maggio sarà operativa. Casal di Principe attende Mattarella, messa per ricordare l'eroe, vittima del clan Don Peppe Diana. Il vescovo messaggio universale di coraggio. Il capo dello Stato si recherà sulla tomba del sacerdote ucciso 29 anni fa dai casalesi. Legge antipirateria, ora interventi lampo. Il nuovo testo in aula, previsti anche blocco dello streaming e disabilitazione dei siti. Balanga, Courmayeur, un morto e un disperso, travolto in un gruppo di turisti sveresi, erano fuori pista in un canale di Val Veni. Guerriglia alle vampe, feriti agenti e pompieri per la festa di San Giuseppe a Palermo. Accento, sindaco contro i bulli, multe da 300 euro. Iniziativa con sanzioni alle famiglie. A Torino, nuova protesi mitralica inserita a cuore battente, super intervento chirurgico. A Torino, da Roma, emissioni allevatori contro la direttiva Unione Europea. L'Italia le ha già ridotte del 24%. Da Salerno trovato sgozzato lungo la Litorania. Il macabro rinvenimento in via Capitolo San Matteo. Si tratta di un immigrato pakistano di 40 anni. A Colle Sannita, morte sospetta, profilassi per meningite. Costanzo avrebbe compiuto 16 anni ad agosto. E poi da Salerno, volontari ripuliscono la foce del fiume Irno. In carcere i padri rivedono i figli. L'iniziativa auguri papà nel teatro della casa circondariale Caputo. La cronaca da Napoli, vigilante morso alla mano da paziente. Ospedale del mare, una donna, ha prima schiaffeggiato un sanitario del 118. E poi si è schiaiata contro la guardia giurata. Multa alla Onlus che ha noleggiato l'ambulanza, 87 euro. Un tiktoker va ad inaugurare un negozio a bordo di un mezzo di soccorso. Il video diventa virale. Progetto Arca. In campo il volontariato, il rapporto presente a Napoli con il social market e con la mensa degli indigenti, Sinigaglia vogliamo potenziare le unità di strada. SOS Vittime ha una 36enne il primo orologio contro la violenza, consegnato a Marta che per mesi ha vissuto con l'incubo di un marito che minacciava di ucciderla. Altri 45 smartwatch verranno distribuite ad altrettante donne fra Napoli, Milano e Torino. Da Chiaia, lavori conclusi, riapre la Chiesa Santa Maria della Vittoria. Domenica alle 9.30 verrà celebrata missa dopo la chiusura per opere di consolidamento per il distacco di Calcinacci. Intanto primo festival della legalità al Vomero. Vandali appiccano il fuoco a dei cartoni e bruciano il murale dedicato a Noemi. La denuncia dei residenti di Piazza Nazionale, il disegno dedicato alla piccola ferita durante una sparatoria fra camorristi. Nuovi Mazzarella alla sbarra, a Forcella, Racket agli ambulanti. La Didia non perde tempo, giudizio immediato per il RAS Mortadella e i suoi fedelissimi. Movida violenta, fermati a Chiaia, tre ragazzini armati. Controlli a tappeto ai baretti di San Pasquale, sequestrati. Un taglierino, un cacciavite e un tirapugni. Truffa del pacco e allarme sulla rete. Pozzuoli IV, sempre più numerose le testimonianze di vittime di malfattori. Torna dopo quattro anni la messa in latino a Pozzuoli, nella chiesa di Sant'Antonio Abate, ad Arco Felice. E poi controlli a portici, arresti per armi, stalking e traffico di rifiuti. Sangue e Movida, Villa Ricca, feriti due diciassettenni. Sono due giovani di Marano che hanno raccontato di essere stati vittima di una rapina da parte di ignoti. L'aggressione è avvenuta in via Enrico Fermi, medicati all'ospedale di Giuliano. Devianza, micro delinquenza minorile, ne parla il sostituto procuratore della Didia, Ranieri, all'IC3 de Curtis Ungaretti di Ercolano. Gaetano Amato risponde al ruotolo, ecco i fatti, a Castellammare di Stabbia dopo le accuse che l'ex senatore del PD ha rivolto al neodeputato del Movimento 5 Stelle. Il Napoli è imbattibile, anche il Torino in ginocchio, il terzo scudetto si avvicina. Il Giorgiano trasforma un rigore, serve a Ndombele l'assist per il quarto gol, più 19 sulla Lazio, ma ormai il vantaggio sulle inseguitrici conta poco dopo la sosta. La strada sarà indicesa e inizierà il conto alla rovescia. Gli azzurri travolgono la squadra di Juric con un poker doppietta di Ossiman e Quaraskelia scatenati. Il dato anche statistico con una precisione sia da una parte che dall'altra praticamente oltre l'80%, ma è soprattutto sulle conclusioni. Quattro tiri verso lo specchio, quattro i gol, sei nello specchio per gli azzurri. Pagine nazionali, la Repubblica, salvataggio Credit Suisse, Europa con il fiato sospeso. Trattativa frenetica e accordo per provare a disinnescare la crisi. UBS acquista la rivale per 3 miliardi di franchi svizzeri. Dalla Banca Centrale, elvetica garanzie per 100 miliardi. Plauso di Fed BCE, riapertura dei mercati nel segno però dell'incertezza. Il naufragio di Cutro, la Guardia di Finanza sapeva, sul Caicco ci sono i migranti. UBS acquista Credit Suisse, il sollievo di BC e Fed. Il governo annuncia l'acquisizione da 3 miliardi, ma l'Istituto Centrale è elvetico, ne darà 100 di liquidità. Ora stabilità, evitata la nazionalizzazione, azione concordata delle autorità monetarie, ma si teme la reazione dei mercati. Negli Stati Uniti le banche minori chiedono due anni di garanzia sui depositi e parte il pressing su Powell dopo il crack di Silicon Valley Bank. Secondo uno studio di settore sarebbero 186 gli istituti che potrebbero fallire se solo la metà dei clienti chiudesse il conto. La mossa di riserva dell'Unione Europea aiuti di Stato per i salvataggi. Il retroscena si rianimerà, anche il dibattito sui futuri rialzi dei tassi di interesse. Tra quattro giorni se ne discuterà il Consiglio Europeo. Se Berna dovesse essere costretta a nazionalizzare uno dei suoi colossi potrebbero cambiare anche le regole interne sul sostegno alle imprese. Avidità e capitali in fuga, le nozze riparatrici, colpo all'orgoglio svizzero. Rivari da due secoli, Credit Suisse e UBS costretti alla fusione per ripartire dopo gli errori del passato. L'ex Unicredit Ermotti garante dell'intesa. Un paese definito allo sportello da Repubblica. Affari e Finanza si rinnova con i protagonisti dell'economia. La presentazione alla Bocconi. Daniel Gross, se vince la sfiducia, altri istituti a rischio. Per UBS è l'affare del secolo, il credit vale molto di più, ma vendere era la scelta obbligata. Berna prova a recuperare la credibilità. Persa. Vergogna di cutro, i messaggi tra guardia di finanza e guardia costiera. Restiamo fermi. La finanza migranti a bordo, ma non usciamo dalle acque territoriali. E la Capitaneria rispose, a noi non risulta per ora nessun intervento. Tutte le annotazioni che emergono, ma il dettaglio della presenza di profughi sul Natante sparisce nella relazione redatta a tragedia ormai compiuta. Questo è il rapporto del giorno dopo, tra ordine e richiesta. Berbock, ripristiniamo le missioni europee in mare. Salvare i migranti è un obbligo. L'intervista alla ministra degli esteri tedesca, giusto sostenere l'Ucraina anche con le armi e voltarsi dall'altra parte sarebbe omissione di soccorso. L'Unione Europea aiuta i paesi iperindebitati a liberarsi dalla dipendenza dalla Cina. Solo così si può contrastare la concorrenza. I gay spacciano quei bambini per figli. Il contrattacco della destra sui diritti. Dopo la piazza di Milano, roccella, no al mercato della maternità surrogata, ora una legge per la stretta. Battibecco con annunziata, meloni, papà insostituibili. Il PD la sfida in Parlamento. Se una coppia gay chiede di riconoscere un bambino che spaccia per figlio, ha fatto all'estero la maternità surrogata. Le parole di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e dirigente di Fratelli d'Italia. L'utero in affitto apre a un mercato di bambini. Noi abbiamo un modello di famiglia con mamma e papà, dice Eugenia Roccella, ministra Fratelli d'Italia per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. I tormenti dei cattolici DEM tuteliamo i più piccoli, ma no alle forzature. La gestazione per altri resta una linea da non superare. Sotto la lente anche le adozioni. Il giro di Walzer che cambia forza Italia, fascina, guida la virata meloniana. Anche nel dettaglio chi sale, Tajani, sorte e benigni, chi scende mulè, cattaneo e mangia lo lavori. La Premier avrebbe agito d'intesa con Pier Silvio e Marina, figli di Berlusconi, per la linea governista. Ronzulli e i suoi fedelissimi ora in secondo piano, in ascesa, Tajani e alcuni volti noti. Il governo abbassa l'IRES anche a chi non assume allarme dei sindacati. La lelega fiscale riduce la tassa dal 24 al 15% a chi reinveste utili, ma non obbliga a creare lavoro. Landini con Cisle Will, mobilitazione, duratura. Guerra, chi è povero rischia una sanità misera, così si premiano i ricchi. Intervista all'ex sottosegretaria dell'economia. La flat tax porterà una riduzione della spesa per il welfare e nella nuova legge c'è un enorme regalo ai redditi finanziari. Andiamo anche con le pagine riferite alla nostra regione, Repubblica Napoli. La foto con il nuovo colpo di testa di Victor Ossimen a battere Milinkovic Savic. Ossimen fa volare il Napoli. Esplode la Victor Mania. Gli azzurri collezionano la ventitreesima vittoria in campionato. Torino travolto 4 a 0 con doppietta del nigeriano. Paik Vara e Ndombele, Vare social impazziti, gadget e dolci dedicati al numero 9. La legge del Napoli. Quattro gol anche al Torino, 10.000 tifosi in festa. Ossimen segna due gol di testa e trascina gli azzurri. Sul rigore Quara e Ndombele chiudono con il poker. Il nigeriano non mi aspettavo, tanti sostenitori azzurri in trasferta. Una superiorità imbarazzante contro i Granata di Giurice che hanno resistito poco più di 30 minuti. Quei dieci mesi che hanno cambiato la squadra e il club. La rivincita di Spalletti. Visto, dicevano tutti, che saremmo scoppiati. I protagonisti con i commenti nel post-gara. E poi anche torte, pizze, babà ora in città. Impazza la Victor Mania nei bar del centro. Eppure sui social. Scontri a Napoli, la difesa ultra. Volevo solo difendere la città. L'indagine che prosegue è la ricostruzione del jeep. 600 tifosi tedeschi con gli atalantini marciavano come un esercito. La prima applicazione, smartwatch, antiviolenza a una 36enne. Il questore Giuliano Ultra, massimo impegno su Italia e Inghilterra. Serve più cooperazione. L'intervista, gli scontri a Napoli. I fatti dicono che quel divieto era più che fondato. La sorella di Don Peppe Diana, solo Mattarella ci può capire. La commemorazione del sacerdote ucciso dalla Camorra. Domani a Casal di Principe la visita del Presidente della Repubblica. Ieri la cerimonia con Don Ciotte e gli scout. Agenzia delle entrate. Maria è la più giovane. Al sud si può vincere a 22 anni da Sant'Antonio Abate a Roma. Mugnano e Negabbia, 18 Cardellini scattano due denunce. Andiamo con la prima di cronache di Napoli. Non ce n'è più per nessuno. Poker al Torino. Un Napoli meraviglioso. Vola più 19 sulla Lazio. Ora seconda. Inizia il countdown scudetto. Volendo già da alcune settimane. Doppietta di Ossimen, Quarascheri e Don Belè. Festa per i 10.000 napoletani all'Olimpico. Derby alla Lazio. L'Inter cade in casa contro la Juventus. Commando apre il fuoco nella zona della faida. Dei gadget per il tricolore. Pianura è una polveriera. L'ombra dell'avanzata dei Carillo Perfetto. Il ride nella stessa strada in cui abita Gaetano. Ferito dal clan pochi giorni prima. Mazzarella, Alleanza. Tensione ai quartieri spagnoli. I ricci d'amico saranno presto costretti dagli altri gruppi a schierarsi nella guerra tra i maxi cartelli. A Napoli furto. Inseguito e arrestato tra i clienti del The Space. Il fermo è avvenuto al multisala di fuori grotta. A Pozzuoli dito mozzato col coltello durante una lite con la ex, il 32enne medicato al San Paolo. Stalking. Il compagno minaccia di ucciderla. Un tasso sull'orologio per chiamare i militari. L'idea per tutelare le vittime di violenza domestica. Una 36enne del capoluogo sarà la prima donna a sperimentare la nuova tecnologia. A Giuliano annunziata ITER in ritardo. L'opposizione all'attacco. Sequino, sindaco inconcludente. Da Napoli a Caserta con i falchetti. Il sogno promozione a tre punti nella lotta per il ritorno in Serie C. Ferrari firma il colpaccio in Costa Smeralda volata per la Casertana con Paganese e Sorrento. Rosso-Blu, vincenti contro l'Arzachena. Settimo successo consecutivo e ora è assalto totale alla coppia di testa. Nel nome di Don Peppe, casale tutta in chiesa, la sorella Mattarella condivide quel dolore. Domani l'arrivo del capo dello Stato nella parrocchia di San Nicola. Gli scout tanto amati dal sacerdote ucciso 29 anni fa. A Capua, rogo devasta il capannone di un'azienda agricola. L'incendio ha colpito la struttura a due passi dall'uscita dell'autostrada. Si teme un ride doloso. A Caserta, ospedali senza pediatri, caos in tutta la provincia. Epicentro del disastro della sanità. Scomparso nel cuore di Caserta, trovato dopo 24 ore di angoscia, paura e sollievo per un 56enne di Marcianise. A San Nicola la strada, Villa, 200 mamme firmano la petizione per il rilancio. Ad Aversa, Golia blinda la maggioranza, scontro tra Criscuolo e Diana. Poi il patto civico per l'Usciano, inviti leader del gruppo, ufficializzata la candidata per le amministrative. Le cronache di Salerno, regioni fallimentari, la Campania è l'esempio. De Luca, male della politica. L'intervista del lunedì a Carmelo Conte, l'ex ministro. Il forum non servirà a rilanciare il partito socialista. Con questo governatore siamo agli ultimi posti in quasi tutti i settori. Non è una questione di terzo mandato. Deve andare via. Cascello, Noa Scarlato, è incompatibile. Scafati al voto, il segretario provinciale di azione boccia tutti. C'è un problema tra il suo lavoro e la sua candidatura a sindaco. Pasquale Sorrentino, ora avanti con la rete degli assessori al turismo. La provincia ha la borsa mediterranea di Napoli. Regioni fallimentari e la Campania è l'esempio. De Luca, male della politica. Carmelo Conte, espressione dell'associazione Cittadino Sud. Nei giorni scorsi a Roma per il forum socialista. Non sarà il forum a salvare il partito. È un esperimento culturale riuscito. Coop e appalti. Il Consiglio di Stato ribadisce ad una coop sociale. Associata, aveva chiamato in causa il Comune dopo la revoca dei servizi affidati. Il riferimento è allo lotto G, quindi dovrebbe trattarsi della 3SS. Giallo a Salerno, uno straniero trovato sgozzato, cadavere rinvenuto in località Capitolo San Matteo a lanciare all'allarme due ciclisti. Si tratta di un uomo tra i 35 e i 40 anni, ma con sé non aveva documenti. Festa del papà e bimbi hanno trascorso la giornata con i loro papà emozioni. L'iniziativa organizzata dall'Humanitas, grazie al prezioso contributo della direttrice di forni Rita Romano. La bella stagione della provincia salernitana o la rete degli assessori al turismo. Consigliere delegato al turismo e promozione del territorio Pasquale Sorrentino, sono ospite nello stand della regione Campania, partecipazione in grande stile dell'ente alla borsa mediterranea del turismo di Napoli. La città di Salerno, morto con un taglio alla gola, il giallo del corpo senza nome. A Salerno, cadavere di un giovane trovato in zona industriale, si indaga per omicidio. Asse, Erbolino, Paolo Sosa, Pirola, Loro, Granata, convocato con l'Under 21, il difensore della Salernitana. Gelbison, Maxi, incasso, invasione alla Rechi, Catanzaro in serie B. Serie D, Cavese, Angri, Super, Paganese, solo il pari. La pompa contesa, De Feo, infuriato con gli Javarone, l'inchiesta di Battipaglia. Ad Amalfi, schianto con il bus sedicenne in coma. Cilentana di sangue, incidente a Futani, intubato a 42 anni. Andiamo sul nostro sito www.ottopagine.it. In apertura, Salerno è un quarantenne bengalese, l'uomo trovato sgozzato. A capitolo San Matteo, gli investigatori temono che possa essere stato ucciso. Al baglio ogni dettaglio. A tra i 35 e i 40 anni, l'uomo di nazionalità bengalese, che stamane è stato ritrovato cadavere nella zona industriale di Salerno. Ovviamente il racconto è dalla giornata di ieri. La polizia di Stato non è riuscita ancora a identificarlo in quanto la vittima al momento del ritrovamento era sprovvista di documenti. Il profondo taglio riscontrato all'altezza del corpo farebbe ipotizzare che la morte sia avvenuta per cause violente. Il sospetto che l'uomo possa essere stato ucciso, dunque, è forte. L'allarme è scattato intorno alle 11. A notare il corpo riverso a terra dello straniero è stata una coppia di ciclisti che stava percorrendo in bici l'area di Capitolo San Matteo, strada che collega la zona industriale con la Litoranea. In prima, incidente tra moto e bus ad Amalfi grave un diciassettenne. Il minorenne è stato trasportato in heliambulanza al Ruggi d'Aragona di Salerno. Ancora sangue sulle strade del Salernitano, un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in costiera amalfitana, proprio ad Amalfi, nei pressi di una curva nelle vicinanze del bivio di Poggerola. Per cause ancora in corso di accertamento, una Vespa Piaggio si è scontrata frontalmente con un autobus della Sita. Il spino ebreo sulle colonne dello stadio Arichi a Salerno. Inaccettabile, la scritta ha suscitato indignazione e rabbia, la segnalazione di Borrelli. La rivalità tra le tifoserie travalica il buonsenso e la storia. Frasi antisemite compaiono sulle colonne dello stadio Arichi di Salerno, indirizzate agli avversari avellinesi, intese con accezione dispregiativa, con l'intento di offendere. L'offesa, lo ripetiamo. Così come riportato dal gruppo Facebook Parlare Avellinese, chissà se chi le ha scritte conosca la storia e sia consapevole di ciò di cui si è fatto pregio di comunicare, dichiara Francesco Emilio Borrelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra. La rivalità tra le tifoserie salernitana e avellinese è accesa, ma è inaccettabile scomodare stereotipi conditi di forte pregiudizio che evocano parentesi che hanno tristemente fatto la storia. Nel 2023 ancora nostalgie naziste, siamo alla frutta. Il basket, poker per l'Ivpc Delfes Avellino, gli Irpini battono anche Taranto, ripartenza con successo di continuità dopo il tris firmato prima della sosta del campionato di Serie B. Da Benevento ad Airola, prima tappa di primavera di prevenzione, la campagna, Asl nel Sannio. CGL viele attenzione alle aree interne, così la segretaria della FI LCC, CGL, dopo l'elezione nell'Assemblea Generale. Da Napoli, precisamente da Casamiccio la Terme, quattro mesi dopo la tragedia di Ischia, trovata la borsa di una delle vittime. Nel borsello e il portafogli e i documenti intatti, commovente ma anche molto doloroso. Quattro mesi dopo la tragedia di Ischia, gli operatori della SMA Campania, impegnati nel riprissino di tutta l'area, hanno tirato fuori dalle macerie ricordi e memorie di una giovane vittima. Il recupero del borsello con ancora intatti portafogli e documenti avvenuto in questi giorni durante le operazioni di pulizia è messa in sicurezza che la SMA, società in house della regione Campania, svolge dal giorno della calamità. È stato un ritrovamento commovente ma anche doloroso. Hanno dichiarato gli operatori SMA al lavoro, ci ha ricordato ancora una volta l'entità della tragedia vissuta, facendoci rivivere momenti tanto dolorosi. Il rinvenimento in località Celario è avvenuto a pochi passi dall'abitazione della vittima e del luogo dove attualmente si sta procedendo con lo sgombero dei detriti. I nostri operatori lavorano con determinazione e scrupolo e il nostro impegno a rischia, spiegano i membri del CDA SMA, Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso, è totale. E ognuno di noi, per quel che può, deve rendersi parte attiva per riportare la vita dell'isola alla normalità. Ancora con Napoli, movida violenta, coltelli, tirapugni, droga e parcheggiatori abusivi, bar Aera GX, tra i denunciati anche tre minorenni. Inoltre, Brindisi vince anche a Napoli il basket Gevi ultima con Scafati Verona e Reggio Emilia. Col Cepancotto dobbiamo avere una tenuta mentale che duri tutta la gara. Andando alla prima pagina, Napoli, donna, prende a morsi la guardia giurata dell'ospedale del mare. Ennesima aggressione al pronto soccorso, la denuncia dell'Associazione Guardie Particolari Giurate. Nuova aggressione in ospedale, stavolta presa di mira un addetto al servizio ambulanze, una guardia giurata dell'ospedale del mare a Ponticelli. Nel tardo pomeriggio di ieri, nei locali del pronto soccorso, una signora per futili motivi ha preso a schiaffi un addetto al servizio ambulanze, preso a morsi sulla mano una guardia giurata e ha lanciato oggetti vari sugli altri malati. La donna è stata prontamente bloccata dalle guardie giurate in servizio e sedata poi dai medici. Un'ultima ora da Giuliano Varcaturo, spaccio nel parcheggio, 23 anni è arrestato dai carabinieri. I militari erano appostati quando l'uomo è entrato all'interno del silos. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 35enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I militari erano appostati a via Nicola Mare quando l'uomo è entrato all'interno di un parcheggio nei pressi del parco Balsano e a bordo di uno scooter senza targa. Nel parcheggio anche un SUV con a bordo un uomo. Avviene lo scambio. I carabinieri intervengono e bloccano i due scoprendo si trattasse di spaccio. Nelle mani dell'autista una dose di cocaina che gli è costata la segnalazione alla prefettura quale assuntore. Il 35enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggio Reale. Ancora abusivismo edilizio nel napoletano. Due denunce dei carabinieri. Strutture irregolari nel parco termale scattano le verifiche. Ad Avellino l'Italia dei volontari. Applaude al carcere di Ariano. Toccante festa del papà. Nella casa circondariale Campanello la più grande associazione che opera nella giustizia criminale. Inoltre Altro blackout casalingo per l'Avellino. Il Picerno passeggia 2-0 per i Lucani che vincono con il gol di Sant'Arcangelo e l'autorete di Sottini. Ancora Benevento. Transizione energetica. Istituire un tavolo permanente. La proposta dell'automobile club di Benevento. Multe nei pressi dell'università. Il PD torna a chiedere più attenzione. La denuncia. L'università è una risorsa a garantire i servizi. Il Partito Democratico di Benevento torna a denunciare una problematica che riguarda in particolare gli studenti universitari. Come già denunciato dal gruppo consigliare del PD nelle settimane scorse abbiamo ricevuto notizia da parte di numerosi studenti universitari di multe legittime ricevute a seguito di soste non a regola. Queste ovviamente hanno una propria genesi. La chiusura per lavori di Via dei Mulini e l'assenza di un parcheggio nei pressi della Siresea di Via delle Puglie. Scuola. Un incontro a cent'anni dalla riforma gentile. L'incontro presso la sala del centenario del convento della Madonna delle Grazie è previsto per lunedì prossimo. Ancora dalla prima pagina. Caos Napoli e Intract parla Ultras arrestato. Volevamo difendere la città. Siamo entrati in azione per difendere Napoli visto che la stavano devastando. È tutto per la rassegna stampa. Ringrazio in regia Aldo Fenizia. Restate con noi, restate sul canale 16 su 8 Channel. Ringrazio in regia Aldo Fenizia